Il buon confessore è anzitutto un vero amico di Gesù, buon pastore e un uomo dello spirito. Sono le parole che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti al corso promosso dalla penitenziaria apostolica definita il Tribunale della Misericordia. Nel corso dell'udienza il Pontefice ha voluto approfondire tre aspetti, la preghiera, il discernimento e il confessionale come luogo di evangelizzazione. Il confessore infatti è chiamato quotidianamente a recarsi nelle periferie del male e del peccato e per svolgere al meglio tale missione deve operare un profondo discernimento, soprattutto dinanzi a casi di disturbi spirituali che richiedono l'intervento degli esorcisti e coltivare la preghiera. Un ministero della riconciliazione fasciato di preghiera sarà riflesso credibile della misericordia di Dio ed eviterà quelle asperezze e incomprensioni che talvolta si potrebbero generare anche nell'incontro sacramentale. Un confessore che prega sa bene di essere lui stesso il primo peccatore e il primo perdonato. Non si può perdonare nel sacramento senza la consapevolezza di essere perdonato prima. E dunque la preghiera è la prima garanzia per evitare ogni atteggiamento di durezza che inutilmente giudica il pecatore e non il peccato.